I carabinieri del nucleo investigativo di Bari hanno eseguito un sequestro nei confronti di Giovanni Cipriani, 50enne bitontino pluripregiudicato, condannato per ricettazione, appropriazione indebita, detenzione di armi, sigilli scattati per il 49% di un'azienda di costruzioni nonché l'intero compendio aziendale costituito da 43 unità immobiliari dislocati nei comuni di Bitonto, Terlizzi, Pao del Colle e Binetto, otto veicoli, alcuni dei quali di grossa cilindrata, mezzi, attrezzature e macchinari destinati all'attività di costruzione di edifici residenziali e industriali ed un conto corrente presso un noto istituto di credito locale con un saldo di 220 mila euro. Già nel 2019, in data 28 novembre, l'uomo fu colpito dal sequestro di prevenzione del 51% del capitale sociale dell'azienda di costruzioni, il provvedimento scatturito proprio da quel decreto di sequestro preventivo è il risultato di un'indagine che ha documentato come un prestanome fosse fittiziamente intestatario del restante 49% del capitale sociale dell'azienda e come il cinquantenne Bitontino, coinvolto in attività delittuose negli anni 90, provvedesse a ripulire anche tramite parenti i proventi illeciti derivanti dai suoi traffici, a fronte di un reddito medio annuo dichiarato al fisco di soli 6.400 euro. Grazie a tutti! Grazie.